Dimmi quando, sei pronta? Sono pronta, però vorrei, se non ti dispiace, ricordare che Nuda Proprietà riprende le repliche, o lo dicevamo dopo? No, è uguale, il 7, l'8 e il 9 novembre da Saronno Al teatro Giuditta Pasta Giuditta Pasta? Sì, Giuditta Pasta Bel nome, stupendo solo per il nome del teatro, molto carino Molto carino 7, 8 e 9 novembre Adesso ti interrogo però Sapevo